Stangata da mezzo milione di euro dell'antitrust per due società del gruppo Estra, alcune attivazioni, circa una decina, non richieste di forniture di energia e gas alle motivazioni alla base della sanzione dell'autorità. Un fatto grave che è accaduto, che accade ahimè spesso quando le aziende crescono e si muovono una dinamica puramente commerciale. È successo qualche mese prima del mio insediamento e è uno degli argomenti che ho immediatamente trattato. Ho avuto modo di verificare che l'azienda è corsa ai ripari controllando le procedure commerciali fin da subito, addirittura prima che accadessero i fatti, ma evidentemente non hanno fatto in tempo e abbiamo preso una serie di contromisure concordate direttamente con l'antitrust e con l'associazione dei consumatori. Oggi Estra verifica direttamente dall'azienda madre, non utilizzando unicamente le agenzie esterne, ma si fa una verifica con una telefonata di sicurezza per avere conferma effettiva della validità del contratto, diamo un'ampia disponibilità sul diritto di ripensamento, mettiamo a disposizione fin da subito tutta la documentazione contrattuale e anche la registrazione telefonica nel caso di contratto telematico. Inoltre verifichiamo sempre con ulteriori chiamate anche contratti fatti porta a porta. In più abbiamo applicato penali pesantissime fino a risolvere di contratto. Abbiamo praticamente mandato a casa ben otto agenzie su 39 che lavoravano per noi, che sono state verificate non in ordine e non sufficientemente corrette. I contratti di questi utenti cosa è successo? I contratti si sono risolti in favore dei clienti. In seguito alla decisione dell'autorità antitrust, le società del gruppo Estra hanno deciso di ricorrere alla giustizia amministrativa. Faremo ricorso perché dal punto di vista legale e amministrativo la cifra è assolutamente eccessiva e non dimensionata al danno provocato.